Bella a tutti ragazzoli e benvenuti al 48esimo episodio della serie di Minecraft, se non ricordo male? Penso di sì, penso di sì. Signori, allora, intanto, prima di tutto vi ringrazio per i like, per i commenti, per il giudizio e per il supporto che è dato alla serie. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché l'obiettivo è quello di raggiungere i 2000 iscritti, anzi, io sto pensando che nell'episodio 50 faremo una bella scritta con l'obiettivo, l'obiettivo dei 50.000 iscritti non ci raggiungeremo mai, l'obiettivo dei 2000 iscritti, vediamo se un giorno riusciremo a raggiungerlo, faremo una scala con degli obiettivi, lo potremo fare tranquillamente. Sta calando il sole, però va bene, però va bene, signori. Cosa facciamo oggi? Oggi andremo a sistemare un pochino questa zona qua della ferrovia, signori, che voglio darle un po' più di corpo, un po' più di corpo. Nello scorso video abbiamo messo le vines di lato, a questo giro voglio un po' più, voglio fare dei passaggi, dei passaggi molto carini, dei passaggi molto carini perché io se non ricordo male le staccionate, le posso già fare, staccionate, bravissimo. No, non così, mi devi fare questo con legno nero, fammene come se non ci fossero domani, perfetto. Fammele tutte e non rompere le scatole. Ok, possiamo fare anche, vabbè, le lanterne le facciamo dopo, signori. Voglio semplicemente fare, allora, sti cattino hanno iniziato a rompere seriamente le scatole, decisamente sì. Voglio fare, signori, i bordini carini e coccolosi. Ovviamente li dobbiamo fare di tre, perché se no forse anche di quattro, sapete? Non so se con la lanterna poi ci passa, non so se mettendo la lanterna qui poi io ci passo. Facciamo subito la prova, facciamo la prova, perché se non ci passo è un problema. Mettiamo una lanternozza qui, così, ci passo secondo voi? Secondo me no. Ce l'ho proprio in faccia, la prendo proprio in faccia come se non ci fossero domani. Ci sono passato attraverso, però non mi piace, non mi piace. Rapido taglio, signori, lo facciamo uno più alto, non mi piace. Sta fatto che ho dato la testata alla lanterna e non mi è piaciuto per nulla. Ok, signori, siamo tornati. Siamo tornati, dobbiamo alzare tutto di uno. E' un po' una rottura di scatole, sì, perché dovremmo sempre mettere un blocchettino di terra e la lanternozza, questa volta però, ci sta. E' sempre un po' bassina, però è meglio decisamente rispetto a prima. Ok, signori, l'altro direi di metterlo qui. Cazzalato, l'ho messo proprio dove c'è la torcita di reddito, ma si può essere più stupidi. Direi di metterlo un pelino più avanti. Lo mettiamo al limite, dai. Lo mettiamo al limite, così leviamo anche un poco di questa rottura di scatola. Ok, mettiamo la torcia, così facciamo la luce giusta con la lanterna, che attualmente non abbiamo, ma faremo. Dobbiamo completare tutto in maniera giusta, signori. Giusta, 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 giusta. Sto vomitando, me l'ha messo, sì, perfetto. Dai così. E dai così. Così, perfetto. Vediamo questa. E ci siamo. L'altra direi, secondo me è una lanterna, potremmo anche metterla qui? No, perché ci sbattiamo la testa. L'abbiamo già fatta prima la prova, quindi direi di metterla un pochino dopo. Ovviamente non metteremo, non ne metteremo tantissimi, signori. Tra l'altro sta anche calando la notte. Perfetto, ottimo. Ottimo. Allora, mettimi questo di qua. E questo. Che è successo? E questo di qua. Perfetto. Attacca. Non ho perso la X. Attacca questo. E attacca questo. Ok. Un altro lo andiamo a mettere, direi, proprio qui, dopo la nostra torcia del redstone. Così leviamo anche quella torcina lì che sta brutta. Dovremmo fare tante lanterne? Sì. Certamente sì. Certamente sì. E ho finito anche i blocchi di coso. Ottimo. Ottimo. Allora, torniamo a casa. Facciamo un po' di lanterne. Dormiamo. Facciamo nuovamente le staccionate. E continuiamo, signori. Continuiamo. Nel frattempo, quando stiamo... Stando tanto sul mondo, su questa zona di qua, si stanno anche sviluppando tutte le varie situazioni che avevamo fatto l'altra volta. Ovvero le staccionate me le devi fare nele. Perché non me le fai nele? Perché non ho più sticchettini. Ok. Facciamoli tutti? Tutti sono un po' assai, forse. Bastano così. Bastano. Non sto facendo nessun taglio, quindi penso che mi odierete tantissimo. Non le posso fare più. Va bene. Quanti ce ne vengono? 27. 27. 27. Non ho più... Devo averli posati, i tronchi di quercia scura. Perché ne avevo molti di più. Devo fare le lanterne. È vero, mi sono dimenticato di fare le lanterne, signori. Mi sono dimenticato a fare le lanterne. Ma le faremo. Le faremo. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Niente sarà lasciato al caso, signori. Niente sarà lasciato in maniera... Dai così. Dai così. E dai così. Ok. Via questo blocchetto di terra. Di qua si scende. Io direi di metterne un altro qui. Siamo vicini? Sì. Ma ce ne sbattiamo altamente. Il mondo è nostro e facciamo quello che ci pare. Ok. 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 E... Ok. Perfetto. Leiamo questo. Bene così. Poi qui direi di no. Lo facciamo qui. A chiusura. Che mi piace. A chiusura di giro. Piacerà ai nostri video, secondo voi? Non lo so. Ma non ci interessa altamente. Ok. Ok. Di qua direi di farlo pure. E mo' mi sono finiti enormemente di sti cosi. Ma porca miseria. Ma quanto... Quanto ne ho? Quattro praticamente. Va bene. Vedete qua stanno crescendo. Ci manca ancora tutta questa azione qua, signori. Ma la faremo con molta calma. E niente, signori. Facciamo una cosa. Faccio un breve taglio. Recupero tutti gli ultimi... Le ultime staccionate. Faccio le lanterne e ci vediamo appena piazziamo le lanterne e chiudiamo questo video, signori. Ok, signori, ci siamo, ci siamo. Piazziamo le lanterne. Ok. Questa qua la lasciamo. Questa la mettiamo qui. Questa torcia diciamo che la possiamo anche levare. Questa la mettiamo qui. Scendiamo. Questa la mettiamo qui. E questa... Ma sì, lasciamola, dai. Fa comunque colore. Questa torcia direi di levarla. Se mi resta una lanterna ce la piazziamo. E questo ce l'abbiamo. Questa la leviamo e questa la mettiamo qui. Ci stavo mettendo una lanterna senza che ci avevamo messo niente ancora così. Piccolo errore tecnico-tattico. Così. Così. E così. Perfetto. Con lanterna. Dovremmo sì, dovremmo... E poi dire di mettere l'ultima. La mettiamo proprio qui. Che ci sta. Che ci sta. Ci potrebbe anche stare più in là, sapete? Magari... Magari... Ok. Potrebbe anche starci, sapete? Mi ispira. Mi ispira metterne uno lì. A chiusura. Perché poi quasi inizia... E... Potremmo fare... E che non c'è blocchi giusti, però c'è blocchi... Di questo potremmo fare una sorta di entrata, tipo... Che ovviamente deve essere alta il giusto. Perché se no sbattiamo la testa e questa cosa... Non vogliamo questa cosa, minimamente... Potremmo fare una sorta di... Ok... No, questo è già... È troppo vicino. Dovremmo riuscire a passarci noi. Però possiamo fare una cosa. Possiamo fare una cosa. Possiamo mettere dei gradini... Di qua. E... Sì, 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 sì. Mi piace, mi piace l'idea. C'è una graffita in table? Sì. Mettere la graffita in table qui. Dammi questo. Che poi forse i gradini... Di questo legno scuro ce l'abbiamo già. Però noi facciamo... Consumiamo materiale così, signori. Come se non ci fosse una mani. Mettiamo un gradino qua. Un gradino qua. Un gradino qua. Un gradino qua. E un gradino lì. Eh no, forse qui no. Qui no. Qui no. Qui più indietro. Dobbiamo mettere il gradino. Dobbiamo mettere lì. Sta brutto? Sta un pochino brutto. Perché dovremmo farlo in maniera alternata. È giusto. Dobbiamo partire da là. Con dei gradini. Qua con i gradini. Questo dice sta durando tantissimo. Solo per costruire... Per sistemare un attimino questa rotaia di qua. Ok. Quindi mettere questi gradini così. Ok. Qua potremmo mettere degli slab per allungare. Degli slab. Me ne da sei. Ok. Stiamo costruendo impresa diretta signori. Potremmo mettere gli slab così che allunghiamo. Poi il gradino. Questo lo leviamo. No, no, no. Che c'entra? Questo ci sta qua. E qua mettiamo gli slab. Slab. E slab. Ci sta? Sì. Sì. Perché noi abbiamo il gradino che è questo di qua, no? Questo è un gradino. Questo qua è un gradino. Che dobbiamo mettere per forza, sì. Va bene, sì. Accettabile. E l'ultima torta... L'ultima lanterna che abbiamo la mettiamo qui sopra così. che lui non mi farà ammettere perché giustamente è bastardo. E noi la mettiamo qui. Leviamo questa torcia. E questa cosa mi piace. Mi piace di più. Mi piace di più, signori. Recuperiamo la crafting table. Mi mancava solo una lanterna dove? Mi mancava una lanterna qui al lato. Sì. Va bene, signori. Una lanterna la recupereremo da qualche altra parte. Decisamente sì. Decisamente sì. Decisamente sì. È stato un video interessante? Non penso, signori. Però, piano piano, sistemiamo. Ci sta anche il sistemare il mondo, signori. Il sistemare il mondo. Detto questo, io vi ringrazio. Vi ringrazio questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per gli suggeriti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.